Oggi vi parlo di pompe per olio ad alta temperatura. Nelle nostre centraline di termoregolazione per olio ad alta temperatura, e parlo di olio a 350, 300, 250 gradi, utilizziamo tipicamente pompe a trascinamento magnetico. Diciamo che fino alle applicazioni che implicano l'utilizzo di olio a 180 gradi, utilizziamo pompe contenuta meccanica, speciale ovviamente per alta temperatura, ma le classiche pompe contenuta meccanica. Oltre a questo livello di temperatura, preferiamo utilizzare pompe a trascinamento magnetico. Che cos'è una pompa trascinamento magnetico? Diciamo che è un tipo di pompa dove, anziché avere un collegamento meccanico tra l'albero del motore e la girante della pompa, vi è un accoppiamento di tipo magnetico, cioè c'è un giunto magnetico, non c'è nessuna connessione meccanica tra questi due organi. Questo comporta il fatto di non avere assolutamente una tenuta meccanica, quindi un organo che faccia tenuta tra l'olio in pressione nella parte della girante e il motore elettrico o cuscinetto. Chiaramente è un tipo di soluzione che elimina quello che può essere il problema di una tenuta meccanica. Perché facciamo questa scelta? È una scelta che dal punto di vista economico comporta dei maggiori costi, sicuramente, ma dal punto di vista della sicurezza è decisamente vincente. Infatti su queste centraline ad alta temperatura vogliamo scongiurare in assoluto le perdite di olio diatermico. L'olio diatermico ad alta temperatura è un fluido estremamente pericoloso e estremamente dannoso, chiaramente. Di conseguenza abbiamo optato per una scelta di questo genere. Le pompe contenuta meccanica per olio ad alta temperatura esistono, funzionano anche benissimo, ma chiaramente è uno dei punti dove con una cattiva gestione della pompa, con un problema ad esempio sull'impianto, ci potrebbe essere un'infiltrazione di aria che comporta, che ne so, una cavitazione della pompa. Tutti questi fattori potrebbero comportare una rottura o un danneggiamento della tenuta con conseguente fuoriuscita di olio. La pompa a trascinamento magnetico elimina completamente questi rischi. Spero di essere stato chiaro. Grazie, buona giornata a tutti.